Oggi faremo gli arancini siciliani. Allora per un buon ragù ci vuole sedano, carote e cipolla, un trito. Questo per fare il ragù. Cipolla. Adesso le carote, ora farò frittare tutto. Stiamo preparando il ragù per le arancine. Deve cuocere lentamente e deve cuocere per 4-5 ore. Nel frattempo che soffregge. Noi prepariamo l'acqua per il riso. Per 300 grammi di riso ci vuole un litro di brodo. Lo potete preparare facendo il brodo vegetale, il brodo di carne. Ma io per semplicità sto mettendo un dado. Per ogni litro di acqua un dado. E 300 grammi di riso. Mi porti il riso che c'è sul tavolo. Come vi ho detto io sto mettendo un dado e viene giusto di sale. Non dovete aggiungere né sale né niente. Su un litro di acqua un dado e 300 grammi di riso. Mettiamo il macinato. Il macinato deve essere 500 grammi di vitello e 500 grammi di maiale. Ora lo farò insaporire mettendo un po' di spezie e la curcuma. Allora mettiamo anche un pochino di burro. 25 grammi di burro. Ora io metto il riso e non lo dovrò toccare fino a quando non si sarà asciugata tutta l'acqua. Senza toccarlo. Non si dovrà girare. Quindi io ora lo preparo per la pastella. Per 300 grammi di riso occorre 150 grammi di farina doppio zero. 200 grammi di acqua e un cucchiaio di olio. Se la avete un pochino di curcuma e un pochino di sale. E questa è la pastella. Io siccome la ho un chilo di riso quindi è molto ne faccio il doppio. Quindi le sto facendo 400 grammi di acqua, 300 grammi di farina. A me piace la curcuma quindi un pochino di curcuma che le darà anche il colore anche giallo all'esterno. E ora l'olio. Due cucchiaie qui io. Voi se ne fate 300 grammi un cucchiaio. Quindi un pochino di sale. Possiamo preparare la pastella. Questa è la pastella per immergere gli arancini. Prima di passare nel pangrattato. Ora dobbiamo mettere la salsa. Su un chilo di macinato vi basta un litro di salsa. Ora la metto a fuoco basso. Fino a quando il ragù non sarà pronto. Più cuoce più diventa buono. Mettiamo lo zafferano. Spegniamo. Ora dobbiamo mettere 30 grammi di burro e 50 grammi di grana. Ora lo sto girando e lo metterò a riposare. E' stato tagliato in una pezzettina e la provoletta. Allora è venuto il momento di metterle nella pastella e di passarle nel pangrattato. E così le friggiamo. Allora mettiamo la mollica. E mettiamo la pastella un cucchiaio su ogni arancino. Ora spalmo la pastella attorno all'arancino. E lo vado a mettere nella mollica. E lo vado a mettere nella pastella. A chi dedichiamo questo corso? A mia moglie. Salutiamo tutti gli amici di Berla Ficina e al prossimo video. Ciao!